Sì, sono da locca. Lino nazionale di Spagna prima di sentire anche il giudizio di presentazione Per sentire Lino bisogna vincere almeno nel titolo fuori dall'Italia Ok allora io in mezzo a due campioni ci possiamo accomodare perché stiamo entrando nel vivo di questa riunione pugilistica Grazie a tutti 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 Grazie a tutti